A lezione di ambiente anche con il sindaco Ecoros Education alla fatta a Padacri e nella scuola primaria campo sportivo il primo cittadino Pino Capalbo ha inteso affidare un importante messaggio ai piccoli alunni parlando del sistema rifiuti calabrese e del funzionamento dei vari impianti a supporto spiegando quindi l'importanza di una corretta raccolta differenziata nonché le opportunità offerte dalla trasformazione e dal riciclo dei rifiuti tematiche queste particolarmente care all'amministrazione comunale in una comunità quale quella Crese che si dimostra virtuosa raggiungendo ottimi risultati in termini di percentuali. Ritengo che la città di Acre sia una delle città in cui la raccolta differenziata funzioni meglio di tantissime altre città della provincia di Cosenza. La comunità di Acre si conferma molto virtuosa con dei comportamenti dei cittadini assolutamente attenti e molto sensibili verso quelle che sono le buone pratiche di una corretta raccolta differenziata e tutela dell'ambiente. Altissimo l'interesse dei bambini nel corso della lezione dell'informatrice ambientale di Ecoros che è riuscita a coinvolgerli con entusiasmo in un percorso ludico didattico al termine del quale hanno consolidato tutte le loro conoscenze in tema di tutela dell'ambiente. Questo progetto continuerà nel tempo perché è importante affidare a loro la conduzione e la tutela dell'ambiente. Poi l'idea di vederli come sentinelle, cioè se sentinelle dell'ambiente è veramente la definizione giusta, tutelare, vigilare per il loro mondo. Acre continua a distinguersi per ottime performance in termini proprio di raccolta differenziata e attività di attenzione verso l'ambiente in genere. Se uno fa la differenza, viene ad Acre e visita, guarda, verifica quello che succede nei paesi limitrofi credo che forse dovremmo avere maggiore consapevolezza dell'ottimo lavoro che sta facendo l'Ecoros ma soprattutto dell'ottimo lavoro che sta facendo anche l'amministrazione comunale che è una delle poche amministrazioni che è in regola con i pagamenti.